John Borno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti, benvenuti il Milan batte la spalla per 1-0 Dico la verità me l'aspettavo, mi aspettavo che il Milan vincesse senza subire gol, mi aspettavo che il Milan facesse una prestazione un po' bruttina Ma portasse a casa i tre punti e questo è quello che esattamente è avvenuto perché il Milan a questo punto, alla terza partita di Pioli Doveva per forza di cose trovare la prima vittoria e come farlo se non in casa contro una spalla in zona retrocessione Appunto con un Milan che con un colpo al cerchio e una la botte perché questo è quello che è successo Doveva comunque fare il risultato, lo ha fatto, lo ha fatto sì In un primo tempo molto 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 brutto dove non succede praticamente nulla Dove il Milan ha pochissime occasioni, dove fatica a creare, veramente non succede quasi niente Ma diciamo non è il solito Milan che magari non crea nulla in attacco e poi soffre tanto tanto dietro In realtà non soffre nulla, cioè è una partita morta Perché la SPAL accettava il pareggio e accettava anche di andare sotto e provare a riprenderla alla fine Perché comunque oggettivamente sul piano del gioco e anche sulla carta era una squadra inferiore Poi sul piano del gioco abbiamo tanto da dire perché poi il Milan prima di Giampaolo e ora di Pioli Fa fatica, fatica anzi no senza fa fatica, fatica a creare gioco, fatica enormemente Proprio per questo insomma io capisco che comunque alla SPAL bastava comunque rimanere attaccata al Milan Fino alla fine provare appunto nel finale a pareggiarla Comunque nel secondo tempo va avanti il Milan Ecco il gol di Suso su punizione L'uomo forse più discusso di questa squadra Io credo che possa levare anche il forse Io credo che sia indiscutibilmente l'uomo più discusso Giovo di parole tra l'altro In questo momento del Milan Perché si dice tanto male di Suso Il problema di Suso ve l'ho detto già prima Mi avete insultato ma tanto ragazzi succede sempre Ormai uno dice la propria anticipatamente Se io dovessi solamente dire quello che accade sarebbe piuttosto inutile fare video Cioè che li faccio a fare Tanto dico quello che accade E quindi preferisco provare a dire la mia Ecco l'avevo anticipato il terzino del Milan che prova a fare il terzo centrale L'ha fatto Conti in modo tra settimana scorsa Settimana scorsa tra l'altro è inguardabile Quest'oggi tra l'altro al Milan gli si rompe Musacchi Quindi ci saranno dei problemi L'avevo anticipato come Suso avrebbe fatto enorme fatica ad integrarsi in questo Milan E questo sta avvenendo non perché Suso è scarso Anzi io credo che tra i giocatori che ha a disposizione del Milan Suso sia uno tra quelli con più qualità Credo che quello con più qualità sia al momento Tio Hernandez Poi ci sono i vari Romagnoli, Piontech Però Suso preso singolarmente è uno di quelli con più qualità Ecco preso singolarmente In questo Milan di Pioli che chiede tutte altre Che dà tutte altre indicazioni e chiede tutte altre impostazioni di gioco Suso fatica enormemente E questo accade Oggi ragazzi la decide Suso Il più criticato Sì però la decide Suso E questo già è un passo avanti Per la conciliazione, per la riappacificazione tra Suso e il Milan Tra Suso e i tifosi del Milan La spalpa fa ben poco Si rompe Musacchi, il Milan ci prova Comunque sono tre punti che servono per muovere la classifica Perché il Milan adesso deve non importarsi tanto del gioco Ma prendere più punti possibili Se ne deve fregare di come gioca Pioli è arrivato a stagione in corso, non ha fatto la preparazione Non ha scelto i giocatori Deve adattare i giocatori che ha ai ruoli che gli servono Perché quello ha a disposizione Però ragazzi quello che arriva adesso Le vittorie che arrivano adesso vanno prese così come arrivano Ok? E la vittoria di oggi per me Arrivata sì in casa contro Sì in casa, sì contro una squadra Alla spalla che è in zona della processione È comunque oro Vi chiedo invece di farmi sapere la vostra Con un commento qua sotto Di iscrivervi al canale qualora non l'aveste già fatto Mi piace, vi ha piaciuto i dislike se vi ha fatto cagare Ma come sempre Spiegatemi il perché Vi ringrazio per aver visto questo video Come sempre E Boschella Lenne come sempre Come sempre Quanto altro hai detto come sempre in questo video Ci vediamo ad un prossimo video Ciao